Confindustria finanza agevolata per le imprese Catania e Siracusa chiedono il potenziamento della filiale IRFIS Fin Sicilia di Catania. Un potenziamento dell'ufficio IRFIS Fin Sicilia di Catania al quale fa riferimento la gran parte delle imprese delle province di Catania e Siracusa per meglio venire incontro alle esigenze della ripresa produttiva del territorio e quanto chiedono in una lettera al governatore della regione siciliana Nello Musumeci, il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco e il presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona, sottolineando l'importante ruolo dell'istituto finanziario regionale nel sostegno al tessuto produttivo dell'isola. Di fronte alle urgenti necessità di liquidità dell'azienda e al fine di accelerare l'istruttore dell'amministrativa delle pratiche di finanziamento, scrivono Biriaco e Bivona, sarebbe auspicabile trasformare la sede IRFIS di Catania da mero ufficio di rappresentanza a filiale strutturata per l'istruzione e la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese. In tempi di necessaria sburocratizzazione e relativo decentramento dei centri decisionali, scrivono il presidente delle due associazioni industriali, il rafforzamento dell'ufficio etneo e la velocizzazione delle istruttorie sarebbero un segnale concreto di attenzione al mondo produttivo con benefici certi per tutte le aziende, ritenendo l'IRFIS una prestigiosa istituzione finanziaria che ha contribuito a far nascere e crescere l'imprenditoria siciliana.